Chi se la ricorda, quando uscì nel 99, questo è il modello restyling, la prima serie che aveva il faro un pochettino più grande, era un po' più tristina, forse davanti a questa, un pochino più bellina, era soprannominata il piccolo genio. E in effetti ragazzi, allora, io vi ho detto la frase, quando guidai la Nissan Silvia, che rimasi strabigliato, tutt'altro genere di macchine naturalmente, vi dissi, meno male che i giapponesi non ci azzeccano con le linee, perché di meccanica non si può dirgli niente, anzi, affidabilità men che meno, ho detto meno male che non ci azzeccano con le linee, se no ci asfaltano tutti, ergo, è uscita la Yaris, asfaltati tutti, e costava, ma quante Yaris del 99-2000-2001 vedete in giro ancora adesso? Una marea! Una marea! Usate con il sedere, per non dire altro, mosse da un motore 1000 o 1300 a catena, eterno, indistruttibile, pazzesco. Con il restyling, quindi a partire dal 2003, come questa, il motore è solo Euro 4. Quando dico motore esente da problemi, meccanica esente da problemi, io parlo di questo, una meccanica semplicissima, a partire una cazzata dall'astina dell'olio, ergonomica, semplice, che non ti fa incazzare i tappi che non si svitano, Cioè, la qualità costruttiva giapponese è superiore a qualsiasi altra qualità costruttiva. Poi, una macchina può piacere o non piacere, e non discuto, ma l'affidabilità di quest'auto è leggendaria.